L'esecutivo di Ignazio Spanò, sulla scena della decisione del Consiglio Comunale, ha deciso di intraprendere un'azione risarcitoria contro l'ANAS. Motivo del contraddittorio in cui potrebbero essere coinvolti anche altri enti, l'isolamento a cui è stata costretta la comunità di Gioiosa Varea a causa delle continue interruzioni sulla strada statale 113 tra il Paese e lo Scoglionero. Rompendo ogni indugio, l'esecutivo ha deliberato di conferire un mandato esplorativo ad un legale di fiducia per le ripercussioni negative scaturite dall'omessa programmazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della statale che nel corso degli anni hanno ciclicamente per lunghissimi periodi prostrato il centro tirrenico e l'intero territorio limitrofo. Abbiamo conferito, mandato al responsabile dei servizi affari generali di raccogliere un po' le disponibilità di legali Gioiosani che a titolo puramente gratuito iniziano le procedure e valuteranno se ci sono i termini nelle condizioni per chiedere il risarcimento di danno all'ANES. Abbiamo fatto questa delibera, penso che a breve sarà conferito formalmente l'incarico e poi saranno illegali a valutare se è una strada percorribile o meno. Parlando a un qualche avvocato mi dice che gli estremi ci potrebbero essere, però sappiamo che quando ci si scontra con certa realtà diventa difficile poi riuscire a trovare delle soluzioni. Noi lo facciamo perché sinceramente la comunità Gioiosani ha tanto sofferto in questi ultimi decenni di questa interruzione continua dell'SS 113 e quindi è il nostro dovere morale iniziare questa procedura.